Diana, per anni il mio unico punto di riferimento nell'agenzia, lei garantiva riservo, io ricambiavo con la perfezione, un rapporto di fiducia, lo scorso 10 agosto Diana è riuscita a mettere in ginocchio l'agenzia, ha cancellato tutti gli account, tagliato le linee di comunicazione, smascherato gli agenti e sfruttato il caos per sparire. Ora la nuova agenzia l'ha finalmente trovata e mi ha offerto il lavoro, un giorno penserò a tutto questo come a un incarico qualsiasi, dopo tutto è il mio lavoro. Diana parla spesso di lui, i giocatori di Diana parla... ... Grazie a tutti 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 Conte Grazie a tutti 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 Alpha 4 Grazie a tutti 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 Non lo so Grazie a tutti 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 Non farmi Grazie a tutti 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 So anche che Quando senti Grazie a tutti Sei tu Grazie a tutti Grazie a tutti